permesso grandissima eleganza ciao dio come stai dai serviti prendi qualcosa no grazie sono a posto piuttosto hai ascoltato il mio messaggio in segreteria ma devi perdonarmi sono incasinatissimo c'ho 80.000 preghiere da so dire 8.000 appuntamenti tutti alle 11 e 30 poi non riesco mai a trovare un accendino che funziona questo mi fa perdere un casino di tempo dimmi di tutto allora ho parlato con minosse mi ha detto che ha problemi con lo smistamento dei peccatori che problemi pare che sulla terra negli ultimi anni si stia diffondendo una grande quantità di nuovi peccati o cioè peccati moderni vanno catalogati bisogna creare nuovi gironi la struttura dell'inferno va completamente riorganizzata mi perdoni un attimo daniela per caso hai visto un bigliettino che aveva lasciato qua sulla scrivania era giallo quadrato c'è scritto sopra un numero di telefono non l'hai visto daniela ragazzi sono stati annunciati i nomi dei protagonisti del reboot del film il corvo jack huston sarà la star del progetto mentre sembra quasi certo che l'attrice jessica brown finley che avrete visto nella serie downtown abbey interpreterà la fidanzata di eric draven shelley the crawl sarà diretto da corin hardy regista di corti e video musicali che ha ottenuto grande attenzione questo gennaio al sundance film festival con la sua opera prima di hallo le riprese dovrebbero cominciare questa primavera vi aspetto al prossimo video ricordatevi di scaricare la nostra app disponibile sia per iphone che android ciao ciao